Buonasera a Macerata Buonasera a tutti Riapre lo speristerio di Macerata dopo il successo della 49esima stagione lirica di Francesco Micheli con il concerto-evento di Marco Mengoni, ultimo vincitore del Festival di Sanremo Il titolo dei suoi concerti, l'Essenziale Tour, nasconde effettivamente le 450.000 copie vendute collaboratori del calibro di Ivano Fossati e Gianna Nannini, il successo Sanremese dello scorso febbraio e l'Eurovision Song Contest 2013 Fans in delirio per uno dei più promettenti talenti della musica italiana sbocciato a X Factor e consacrato a Sanremo, accompagnato sul palco da sei straordinari musicisti Luca Colombo, direttore musicale, Gianluca Ballarina al piano tastiere e alle programmazioni Giovanni Pallotti al basso, Andrea Pollione all'organo e alle tastiere, Peter Cornacchia alla chitarra e Davide Solazzi alla batteria Giorg Amori Giorgal Atta